Pochi istanti fa passeggiando ho osservato un bambino cercare l'attenzione di sua madre, la quale tuttavia era troppo impegnata a guardare lo smartphone e distrattamente ha risposto senza nemmeno volgere la testa verso suo figlio. È un fenomeno drammatico della nostra epoca del quale credo non ci rendiamo conto pienamente. I bambini quando chiamano la nostra attenzione hanno assolutamente bisogno che noi volgiamo lo sguardo verso il loro sguardo, che i nostri occhi sistematicamente e puntualmente incontrino i loro occhi. Anche il filosofo Byung Chulan in un suo bellissimo libro intitolato Le non cose accenna a questo fenomeno di distrazione e di irresponsabilità scrivendo Persino ai bambini piccoli viene impedito l'accesso allo sguardo ogni volta che la loro persona di riferimento fissa lo schermo. Bisogna recuperare l'empatia e bisogna recuperare l'attenzione reale della presenza.